se siete alla ricerca di una power station da buon rapporto autonomia prezzo magari fermatevi qualche minuto su questo video non schippate subito perché questa di all powers potrebbe essere una buona soluzione mi è stata proposta la collaborazione l'ultima volta avevo provato questa piccola power station che è eccezionale la uso ancora nell'orto è comodissima quindi ho accettato di provare anche questa perché mi è piaciuto il rapporto tra l'autonomia e il prezzo finale ve lo dirò tra qualche minuto e in più c'è un codice sconto del 10 per cento se vi può interessare è un buon acquisto magari seguitemi dopo la sigla vi faccio vedere un po le caratteristiche principali e la mettiamo alla frusta e la portiamo oltre il limite come è il mio solito fare ci vediamo dopo la sigla rieccoci sul canale bentornati a tutti sono orso all powers è un'azienda cinese però fa dei prodotti veramente fatti bene e al di prova di questo riporto le foto della power station piccolina che ho provato anche l'anno scorso che sto utilizzando tuttora è comodissima la qualità è ancora ottima e quindi ho deciso di provare questa questa è la all powers s 2000 1500 watt ora di capacità circa 2 kilowatt pensate 2 kilowatt in uscita io l'ho già provata sono tre quattro giorni che la provo l'ho provata con tutto ciò che potevo provarla per metterla alla frusta in casa un climatizzatore da 9000 btu pensavo che consumasse chissà quanto invece poi l'ho collegato e sia in raffreddamento che in riscaldamento io ho 500 watt in uscita quindi questo vuol dire che con una power station del genere che ha 1500 watt ora di capacità io posso riscaldare o raffrescare per tre ore gratuitamente tra virgolette ora è giusto spiegare cosa vuol dire gratuitamente questa ha un costo ha un costo che è più basso delle concorrenti però ha un costo questa la trovate a 799 euro e col codice sconto insomma la pagate 720 euro è un ottimo prezzo per quello che dà però ovviamente sono soldi che poi dovranno essere ammortizzati negli anni quindi avere tre ore di riscaldamento raffrescamento gratuiti significa che risparmio sulla componente di energia perché questa l'avrò caricata al giorno o con i pannelli solari che si ha sul tetto della propria abitazione come nel mio caso oppure con i pannelli solari che vi farò vedere fra qualche secondo che si possano acquistare insieme a questa power station quindi vuol dire che di giorno la si carica e di sera o di notte lei funziona e quindi ci porta un risparmio a fine mese allora entriamo un attimino nel dettaglio la batteria garantita per circa 2500 cicli questo vuol dire che se la si carica tutti i giorni lei garantisce 2500 ricariche dopodiché scenderà l'80 per cento non è che la buttiamo via cioè in caso di rottura di un guasto ovviamente andrà fatta a riparare ma se non ci sono problemi elettrici o elettronici dopo i primi 2500 cicli di ricarica la batteria scende l'ottanta per cento noi continuiamo a usarla 2500 cicli di ricarica sono circa sette anni ora secondo me non è tanto il kilowatt e mezzo risparmiato al giorno per sette anni ma l'utilizzo che ne facciamo come vi dicevo se la si utilizza in un appartamento in una casa avere un climatizzatore di medie dimensioni avere un paio di ore al giorno di riscaldamento di raffrescamento la sera ovviamente è tanta roba questo è uno ma ad esempio ci si può collegare un fornelletto a induzione e questo funziona tranquillamente tenete conto che ogni uscita in a4 sono le suco supporta fino a 2 kilowatt ovviamente non possiamo collegare quattro utilizzatori da 2 kilowatt il totale che la station eroga solo 2 kilowatt poi noi possiamo perdere 500 da qua 300 da qui 700 da qui 2000 solo da una e dopo vi farò vedere i test per portarla poi alla fine scala e portarla poi nello spegnimento perché quello che succede quando si supera il limite e che lei si spegne a quel punto bisogna resettarla ma andiamo per ordine vi ho parlato delle quattro uscite suco con un carico massimo da 2 kilowatt vediamo le altre uscite abbiamo un'uscita 12 volt per l'accendisigari dell'auto due uscite power delivery fino a 100 watt e quattro uscite usb quelle standard come la ricarichiamo la ricarichiamo col suo cavetto a 220 che noi inseriamo sul retro o la possiamo ricaricare col cavo xt 60 in dotazione se utilizziamo i pannelli solari si possono utilizzare anche simultaneamente sia la ricarica posteriore che la ricarica pannelli solari mi hanno mandato in test i pannelli a 200 watt dicevo si può sommare allora la carica con pannelli solari e quella dalla rete a 220 e qui arriva la prima chicca di cui voglio parlare allora voi dovete sapere che questo tipo di batterie più si ricaricano lentamente e più durano quindi il produttore ha pensato bene di limitare l'ingresso della corrente di rete di ricarica a 400 watt di più non va mentre si possono utilizzare pannelli sino a 500 watt ovviamente per i pannelli un discorso a parte dipende molto dalla esposizione solare quant'altro quindi 500 watt gli si avranno veramente molto molto raramente non ci si arriva vi faccio vedere un attimino il resto della power station è molto semplice molto lineare a due maniglioni per essere presa circa 14 kg non è un proprio leggera leggera qui abbiamo l'ingresso è un'altra funzionalità della power station è quella di poter essere comandata da bluetooth ora prima di cominciare a parlare di test vi faccio solo vedere questa è la trazione compresa nel pannello solare c'è tutta una serie di cavi di cablaggi per collegarla in vari modi con vari device detto questo cominciamo un po di test il primo test e andiamo subito sul pesante lo facciamo con questa pistola ad aria calda questo è uno degli utensili che ho che assorbono maggiormente corrente questa arriva circa 2 kilowatt che l'uscita massima per ogni presa 220 il cavo della corrente di rete è scollegato collego l'uscita delle 220 abilito l'uscita delle 220 volt e cominciamo velocità 1 il display è molto chiaro si vede bene ci stabilizziamo su circa 900 watt velocità 2 che è la massima ecco arriviamo a circa 1800 watt in queste condizioni questa power station ci dà circa 38 39 minuti di autonomia completa parliamo di quasi due kilowatt in uscita e 30 38 minuti e come vi dicevo climatizzatori da 14000 bq che assorbono circa 1000 watt hanno circa un'ora e 10 un'ora e un quarto di autonomia tenete appunto poi che una volta raggiunta la temperatura per i climatizzatori tendono a modulare quindi la potenza richiesta scende cala grazie all'inverter e noi quindi riusciamo secondo me ad avere un'ora e mezza buona buona di autonomia se non due con dei climatizzatori da 14 la bq la ventola sentite ecco mi avvicino col microfono vi faccio sentire la ventola la ventola si sente non è silenziosissima però è indispensabile il secondo test che voglio fare e qua introduco un asciugacapelli ma tenete conto che non possiamo collegarli insieme cioè non possiamo utilizzarli contemporaneamente e vi faccio vedere cosa succede ora l'asciugacapelli lo proviamo da solo vediamo il fin dove arriva a varie selezioni color aria riscalzamento 1 più stabilizziamo ritorno ai 700 watt massima potenza e dovremmo arrivare insomma i mille 3.400 watt ora cosa succede quando io collego la pistola al massimo della potenza arriviamo 1800 watt e questo al minimo in pratica il test adesso si basa sul far superare 2 kilowatt di potenza in uscita e far fermare la power station e una sicurezza sua interna importante ci sia se non si brucia nel giro di pochissimo tempo allora parto con la velocità 2 partita a palla 1800 watt siamo a 2 kilowatt in uscita e adesso si spegne vedete arrivato a 2 kilowatt e 100 suona si ferma spengo tutto per ripartire semplicemente ridiamo corrente alle prese e si riparte una cosa che non vi ho detto all'inizio l'onda in uscita e l'onda sinusindale fura che la migliore questa power station quindi può pilotare anche i carichi imbuttivi le pompe soprattutto e quant'altro ma anche per i frigoriferi freezer è eccezionale quando ritorna la corrente cosa succede che una parte della corrente di casa va a caricare la batteria e una parte continua a fornirla sull'utilizzatore io ho parlato solo di un utilizzo in casa va da sé che se vogliamo utilizzarlo in un camper questo ci basta e ci avanza per tutto ciò che dobbiamo fare il produttore ha fatto uno schemino con tutto ciò che è possibile utilizzare e per quanto tempo ve lo lascio qui sovrimpressione però nel frattempo a me faceva piacere farvelo vedere ad esempio uno a frigo da 1500 watt può funzionare per un'ora un microonde ecco se siamo anche in un camper con un microonde che comodissimo un'ora e due un trappano da 1000 watt circa un'ora e mezzo e così via anche la lavatrice ovviamente climatizzatori circa un'ora dipende poi dalla potenza e dalle impostazioni con la power station del genere noi siamo indipendenti ovviamente fino a un certo punto ora che non ci sono carichi ovvero questo è staccato spento il display switcha cambia non ci fa più vedere la potenza in uscita ma la potenza di ricarica in entrata ora stiamo assorbendo della rete circa 400 watt che quello che vi dicevo prima è il massimo impostato dalla casa madre per caricare la power station mi sono spostato in esterna perché vi faccio vedere una cosa molto interessante allora guardate siamo in pieno sole e ho esteso i pannelli solari sono quattro pannelli solari un totale di 200 watt dietro hanno dei piedini che si possono regolare per dargli la giusta inclinazione ora vi faccio vedere la modalità di ricarica solo con i pannelli solari oppure in combinazione con la corrente di rete display si vede bene almeno io ho chiuso lo vedo benissimo spero che si veda anche in camera e allora allora stacco la corrente di rete in questo momento i pannelli solari mi danno circa 100 watt di ricarica prima sono arrivato anche 105 ed è un gran bell'andare perché è una buona potenza soprattutto se pensiamo che ovviamente è gratuita e arriva dal sole ora io aggiungo la corrente di rete si sommano e vediamo cosa succede ecco arriviamo circa 485 490 watt in ingresso quindi sono circa 380 watt della rete più i 90 100 watt della del solare in questo momento la velocità di ricarica è molto molto veloce la faccio caricare al 100 per cento perché dopo vi faccio vedere una cosa cuociamo un po di pasta con una piastra elettrica in ghisa vi faccio vedere un po come funziona facendo una cosa pratica una cosa utile non soltanto azionando un trapano e quant'altro ci vediamo tra qualche minuto appena si ricarica bene allora siamo in cucina piastra elettrica la 1500 watt pentola d'acqua fredda ovviamente 100 per cento di carica siamo pronti ne approfitto solo per farvi vedere l'interfaccia bluetooth dove posso abilitare e disabilitare le porte sia 12 volt che quelle a 220 volt ecco questo dovevamo farlo adesso l'abbiamo fatto vedete è partito il 220 volt disabilitiamo quelle a 12 che non ci servono ecco qua bene siamo pronti partiamo faremo bollire l'acqua faremo un po di pasta visto abbiamo una colonia felina guardiamo loro la pasta con la carne partiamo vediamo cosa succede siamo partiti 1300 1400 watt questo abbastanza preciso è 50 minuti di autonomia ora lui arriverà al massimo della temperatura si spegnerà e anche essa si spegnerà la ventola ovviamente poi quando lei riparte ripartirà anche la ventola ci rivediamo fra qualche minuto e vediamo la fase di ebollizione poi punto la pasta o bene dai tanto non è che vi devo far vedere come si cuoce la pasta ma è giusto per farvi vedere che riusciamo anche a cucinare per 50 minuti su una piastra 1500 watt al massimo ok sono passati 17 minuti per l'ebollizione dell'acqua questo ovviamente dipende dalla potenza della piastra è l'acqua bolle ecco notate ora che si è spenta la spia quindi lei non sta più richiedendo potenza si è spenta anche la ventola riportiamo a pollizione finiamo la cottura dopodiché tiriamo le somme ci salutiamo perfetto la pasta è cotta dai sono passati 23 minuti circa dall'inizio della cottura compresa la fase ovviamente di riscaldamento dell'acqua insomma abbiamo ancora il 50 per cento nella power station possiamo ancora cuocere un'altra pentolata di pasta insomma questo era solo per dirvi ecco vedete che cotta solo per dirvi che si possono fare tante cose con una base station del genere sono veramente molto contento di averla provata ho fatto bene a accettare questa collaborazione perché mi è piaciuta molto davvero tantissimo soprattutto se consideriamo come vi dicevo il costo di circa 700 euro scontata col 10 per cento del coupon che vi lascio sopra bene tutto per questo video ringrazio all powers che mi ha dato la possibilità di provare questa power station l'ho trovata come vi dicevo veramente molto interessante soprattutto in rapporto al prezzo di acquisto se vogliamo trovargli un difetto non è espandibile cioè non possiamo collegare altri moduli per ampliare la potenza in uscita così è così rimane se siete alla ricerca di una power station del genere con questo prezzo con questa potenza in uscita fateci un pensiero perché è interessante vi ringrazio per essere stati con me lasciate un like iscrivetevi al canale condividete con i vostri amici salvatevi il video perché vi potrebbe venire utile magari in autunno inverno quando se avete un pannello solare sul tetto potrebbe essere una buona soluzione per accantonare un po di corrente il giorno e usarla alla sera ecco io parlo proprio così vi auguro una buona giornata